la cenere a mille e un colore che non si vedono occhio nudo sono infinite le sfumature di ciò che è bruciato fino all'ultima fibra non vorrei sembrare saccente anche se sono da poco uscito dalla pubertà e nella mia condizione di poter osservare da ogni possibile angolazione dell'alto ideale sapendo tutto del basso volgare se per i più ritornare cenere all'innellottabilità del luogo comune religioso partire cenere e restare cenere come stato per me è una volontà o mia o di dio invece mia non mi imbarazza nemmeno un po caricare dei peli in testa di un simbolismo paracelsico ai limiti della bestemmia l'affollamento nella sala continua a essere spartito in due bene come se ognuno attendesse istruzioni sul prossimo passo da fare e sono riapparsi dei piatti di portata pieni di grissini e prosciutto e fette di salame e scaglie di grana ma io mi trattengo umilmente dal fender le due ali mentre un vassoio con le flotte spumeggianti di bollicine si allunga verso di me e quella vecchia di suora laica macilenta di mia moglie già investita della disinvoltura festaiola con buon gusto che una volta le toccava recitare e che ora le sfugge via del tutto in consulta e tuttavia bisogna pur pensare che dio ci invia i suoi insegnali e i suoi ordini attraverso le umane apparenze della nostra nuda carne non ancora addobbata degli orpelli del ruolo capelli peri cartilagini nasali dissetti gamusi o affilati unghia ipocratica ginocchia gemelle alluce valgo piede caprino orecchia sventola membra lillipuziane o gigantesche labbro leporino doppio strabismo psoriasi congenita pupille di poca o troppa melanina che spinge l'azzurro o arretra al castano o si sfilaccia addirittura nell'albinismo il più insignificante dei segni generici o ereditari spesso incanala tutto il significato di un'esistenza di una carriera di una compressione artificiale di tutto un'anima nell'angusta scatoletta di un ruolo ci sono carni missionarie e carni di missionarie con stato non ne faccio una questione di valore o di elezione non ho mai neppure per un istante pensato che sono stato creato per un fine superiore ma per un fine ulteriore ogni altro sì ad ogni altro rispetto a quello che avrei potuto infiggermi per conto mio intendo dire non ho mai avuto vocazione per la vocazione ma un istinto infallibile per la missione sì che questo missionario spirito di remissione a un fine ulteriore mi sia stato cucito addosso dagli eventi o dalla casualità o dalla malafede o dall'incuria di chi avrebbe dovuto tenermi e caro e invece mi ha abbandonato ne indica ancora maggiormente la veridicità ma all'origine c'è quest'ineffabile colore di morte pregressa e di vita ulteriore inedito per un neonato un ciuffetto grigio che scendeva triangolo in mezzo alla fronte sono nato portando su di me le vestigia di ben due millenni di impero da qui il segno che dovevo provvedere al mio meglio ad altri millenni a venire provvedere alla perpetuità di santa romana chiesa sia ben chiaro e tondo e ci sto riuscendo tuttora molto bene anzi di bene in meglio scalpitino pure le altre nazioni dell'unione europea criticando lo scurantismo culturale di stampo antidemocratico e berlusconiano dell'italia finché ci sono io e decine di migliaia di preti sotto mentite spoglie come me l'italia resterà dove deve stare e dove deve restare lo dico io un'entità in incognito costruita costituita da mille e mille e mille adepti miei si fa per dire simili laici sì ma di tipo italiano per l'appunto preti e travesti l'ho sputtato fuori tanto prima e poi me lo sentirò ridire ad alta voce da quella macchietta della molle identità che mi gira le spalle con insistenza e tanto chi mi sente a parte nostro signore gesù cristo per lui le bestemmie sono solo invocazione al contrario atti di sottomissione negativo lui se la ride di quel che va a far neticando la mente a lui interessa solo quello che è riordinato nella viva voce non gliene frega niente della verità o della verità dell'enunciato vuole l'ufficialità che che già nella pubblica piazza se voglio persino dentro di me sarei in grado di parlarmi e di non ascoltarmi la destra non sappia cosa fa la sinistra lo spirito separato dalla materia la sostanza e l'apparenza la moglie e l'amante la notte e il giorno divide e tempera ecco tutto l'impero romano mica è morto ha solo aggiornato la batteria grazie a noi devo aver avuto nove anni quando ho pensato così che se avesse avuto i capelli rossorame forse mio padre mi avrebbe affidato al primo tendone di circo di ritorno sulla costa ecco tutto e che oggi sarei un pagliaccio un giocogliere o un domatore di leoni anche se secondo a nessuno rimasto orfano anche lui e così giovane e pieno di struggimenti a fior di pelle voleva imbarcarsi sulla prima nave da crociera che riprendeva il giro del mediterraneo ancora in gombor di porta aerei e dragamine e con un fardello come me non avrebbe potuto che arrivare al faro e rigirare il gozzo verso la riva la donna della merenda al mare li aveva così come i miei li portava corti più corti ancora di mio padre che io ricordo a petto nudo pantaloni al ginocchio sfilacciati e una chioma di riccioli neri che gli copriva il collo perché io lo ricordo o sempre di spalle o su in alto su su davanti a un pennacchio di fumo di ciminiera quel mattino che salpò purtroppo lei non riesco a descriverla nemmeno tanto poco non la ricordo affatto e anche le proporzioni del fisico certo era ben più magra di mia nonna e più alta e non mi guardava mai diritto negli occhi come mia nonna che era affetta da un brutto strabismo che la rendeva ancora più animalesca dunque ancora più desì come odio questa radice per certi gusti fuoriusciti da monta sdentati maldutriti e con quell'atroce voglia di femmina su cui ammattire qualche minuto e dimenticare gli spettri delle città patite e fatte patire repubblichino partigiano poco importa era un'epoca di scroti alla deriva disperati ex bambini seviziati dai rastrellamenti e dalle carneficine tardive da una parte e dall'altra senza dimora e senza pace patte senza bottoni che vagolavano di bettola infienile e di madre perduta in madre ritrovatra in madre sognata in madre incarnita nella memoria della narice dell'attante madri tutte generosamente a gambe aperte per poco ma lì al nostro cannetto mia nonna aveva conservato tutto il paradiso possibile l'inferno se lo sudava fuori dalla nostra casa matta dando di polpaccio e di reni ai pedali della bicicletta e non se la portava mai a casa come penso per la notte quando si avvicinava un uomo lei staccava la carabina dal muro e usciva imbracciandola però dato che palanche appunto non dovevano mancarle da un certo paese forestiero lei non deve essere stata meno viziosa dei suoi clienti o meno di loro portatrici di natura grassa e sgraziata com'era sarà stata una bestia imbattibile nelle orge a me faceva un po schifo per la verità se per questo mi faceva uno schifo anche gli uomini non mi è costato molto tenere fede all'illibatezza del celibato anche se a onor del vero dopo che hanno fatto virare la mia strada non ero più tenuto alla virginità ecco qui la licenza del papa puoi essere ordinato sacerdote anche domani studi eccelsi e la tesi sulle tasse a discrezione presso i medici un capolavoro lingue straniere grande predisposizione all'ubbidienza attiva autentico slancio nello staccarsi dalle cose materiali è incomiabile la tua rinuncia ai beni della tua genitrice anche qui dai marmi agli stucchi rinnovati è tutto merito tuo noi ti siamo ancora grati e un pallino per le cose di finanza che si direbbe una mongolfiera no uno sputnik se non fosse dei bolshevichi tutto sta ben di dio che vogliamo fare ne mi chiese il vescovo ma più tra sese che formulando una domanda a me mi chiusi nelle spalle come a rispondere facciamone un sacerdote no e lo guardavo stranito e restavo in silenzio di tomba sentì per tutto il corpo come un rimescolio di larve non avevo idea di che cosa mi stava per chiedere tu sei allenato ai rigori della solitudine tu sei un unto del signore e lo sai e te le fai ancora quelle docce gelate da polmonite fulminante certo che hai sfidato la divina providenza non poco fede cieca e lungimirante ascendente sulle persone umiltà umiltà propria che sa capitalizzare mettere a frutto l'arroganza altrui piegarla un seduttore nato e i tratti belli del tuo volto e della tua persona una moralità a prova di circe tu puoi diventare il cardinale più giovane d'italia con uno schiocco di dita non ci sono incerti del mestiere con te se vuoi fare l'ovvia carriera poi batte l'anello sul bordo della tazzina tre volte la portò alle labbra beve un sorso di cioccolata calda e fissandomi con immensa pietà potresti infiltrarti scandi ridacchiando e poi facendosi serio mai sentita l'espressione quinta colonna e me la spiegò insieme a buona parte della recente guerra di spagna non mancando l'occasione per dare lustro a quel sant'uomo di franco ancora saldo al potere poi ordinò al suo attendente falla entrare ed entrò con lei che sarebbe diventata la mia ombra quotidiana una donna che come me rinunciava per nesso della causa a prendere i voti e invece di monaca diventava mia sposa non era pelle e ossa come adesso ma lo sguardo di luciferina delirante vuota intensità era più o meno lo stesso non mi doveva piacere né la guardai né feci resistenza ma già che c'ero ho messo ho fatto mettere da terzi bene in chiaro i miei patti con quella sconosciuta dagli occhi di invasata e ho approfittato per non dover rinunciare per tanto poco un matrimonio di circostanza ai privilegi dell'astinenza un matrimonio di facciata un sì farlocco con questa ombra verminosa del diavolo qua accanto che ancora parla del dolore della matornità negata per colpa sua che le si sarebbero staccate entrambe l'ovai a seguito di una puntura di zecca nell'età dello sviluppo che attrice del resto madre badessa che presieda alla manifattura di canestri di vimini o funghi porcini o pesche di beneficenza o sciroppate o di asilinido o caposala di urologia maschile o qui a far la moglie moderatamente femminista del sottoscritto impegnata oggi contro la Cina del Darfur e ieri nel procurare le vernici per ridipingere le barchette post tsunami che differenza fa? se per questo ci hanno assortiti bene Dio e Trino per statuto uomini, donne e Vaticano e unuchi e infibulate a gogo e chiavi di San Pietro qualcuno deve pur sacrificarsi cosa sono una sessantina di milioni di pecoroni da macello al confronto di sei miliardi e passa che tutto sommato la fanno franco o meglio che offrono la cotenna alla concorrenza religiosa? se dovessi dire io di che colore sono i miei capelli e oggi come allora, tanti decenni fa per quanto siano ormai radi direi che è il colore del non vissuto del non detto del non sentito del non ascoltato del palpitante disatteso e tanto da cessare ogni palpito e forse questo riguarda non tanto me e l'esistenza mia ma anche quella della donna delle due merendi al mare che non mi tenne per mano nemmeno per saltare il rivolo dello scolo giù dal villaggio e che neppure mi ha mai sfiorato una guancia con una carezza il modo di mia nonna di farmi sapere che non mi voleva male era mandarmi un pezzo di torsolo di cavolfiore e farmelo balenare tra le dita come un'ala di colombella bianca e come se lo levasse lei di bocca e quando tirava fuori dalla pignatta bollente mezza patata e me la porgeva su un piattino con un filo d'olio io andavo in deliquio le volevo ancora più bene ero più sicuro che non mi avrebbe annegato nemmeno quel giorno lì carezze però niente neanche da lei se non sai cos'è una cosa mica la rimpiangi quindi posso tutt'al più rimpiangere un torso di cavolo e mezza patata calda con un filo d'olio eccola qua la foto con me un po' di affanno improvviso un po' di sangue che mi va alla testa un attimo che mi si fa tutto scuro davanti e parlandomi da sopra la spalla lei mi fa lei l'unica al mondo qui in grado di abbinare me di ora a quello sconosciuto di allora lì in basso a destra nella foto chi lo crederebbe è un che di cimiteriale sto quadretto di coglioncini neri non trovi come tante foto di ceramica sulle lapidi chissà che ne è di quello lì in basso a destra così carino e dolce per esempio magari ha messo su pancia la carogna e la sugna gli cola dalle guance e dalle cosce e gli sta per venire un cancro all'apostata proferta Dio e ha alzato la voce come se già non fosse abbastanza stentoria e gracchiante la maledetta poiana sderenata dalle morroidi anche nell'utero di pus che si ritrovi non so perché predestinazione tricologica da mercoledì delle ceneri a parte ero capitato lì a studiare da prete so però che a distanza di dieci anni dal primo giorno che entrai in quell'edificio dove per prima cosa mi fu insegnata a recitare le prechiere perché tutta una recita anche le suppliche e mia colpa e allorché è stata presa questa foto con me così fresca e bellino e sereno e sorridente e che vedo adesso per la prima volta mentre con mia moglie prendo a muovermi tra i manducanti a ganasce immobilizzate che usciti dall'incantesimo d'autosuggestione codina hanno ripreso a muoversi e a masticare e che al mio passaggio accennano un'espressione di gradita sorpresa di timore reverenziale so che non ho mai desiderato per un attimo essere altrove e nel 1951 mio padre era un ragazzo padre con pochi più anni di quelli che io ho qui nella foto certo nel vederla così inaspettata anche se me l'aspettavo lo spumante ha tremato nel flutt e ho sentito la gola chiudersi in un urlo ingogliato a viva forza tanto che è un miracolo che non sia svenuto o che almeno non mi sia appoggiato al suo braccio da spaventapasseri rivelando infine una debolezza poco istituzionale mio padre subito dopo la fine della guerra è stato il primo ad improvvisarsi venditore di noci di cocco e di gazzose sul litorale e quell'agosto del 1951 che poi sono planato qui in seminario si è avvicinato alla rete che separava la spiaggia di tutti ancora in selvaticita dalla colonia tutta bonificata e rastrellata puntino dei preti e pretini orfanelli di guerra e si è messa a parlare con la tonaca nera pianzana fra quelle con i piedi nudi sulla battigia che sorvegliavano bambini e adolescenti in acqua l'anziano prete pelato si è sollevato la sottana bagnata fino alle ginocchia e si è avvicinato un postizzito alla rete e a quello che doveva essergli apparso un perdigiorno un gigione un fanfarone un ennesimo pezzente che chiedeva senza dar niente in cambio mio padre si è girato con la testa appena appena ha indicato col braccio verso la mia direzione io era accucciato sui talloni non stava affatto accovacciato nella sabbia volevo esercitarmi all'equilibrio necessario per pesare le cose fuori così forti e spietate contrapponendole a quelle pensate dentro così deboli vili compiaciute e autoassolutorie e sono rimasto come pietrificato con le mie telline in mano e il numero delle stesse impigliato nella memoria 33 come gli anni del Signore e quando è iniziata la prima elementare siamo passati al campo santo abbiamo messo le tre mazze sorde prese dallo scolo sotto la crocetta di legno della nonna e mi sono trovato intruppato lì in quel nero sdrucito logoro lucido denso scolorito e pesante in inverno come in primavera nero 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 per prima cosa mi hanno tosato i capelli non mi sono guardato nello specchio nemmeno una volta tenevo gli occhi serrati non avendo versato una lacrima prima nemmeno al funerale non ne versai una né in quella circostanza né in seguito e poi l'odore di minestra di verze patate e di carne in scatola dappertutto a me piaceva era un odore di rancido tenuto sotto controllo era un odore di umano andato a male a fin di bene inoltre beh non è che ci si lavasse granché in inverno poi solo a quarti con lo strofinaccio e neppure dappertutto il sesso pur non avendo nome nemmeno per quello dei maschi non potendo essere toccato tanto meno per soprannome non andava lavato questo e poi il fatto che la biancheria di sotto non è che vedesse il paiolo del bucato giù nei sotterranei più di una volta ogni 15 giorni perché in effetti erano molto molti di più gli abbandonati completi come me che coloro con ancora qualche genitore che provvedesse al ricambio o a una parola insolita nei conversari al refrettorio a me nessuno ha mai detto come sei cresciuto figlio mio e neanche mi ha mai guardato con quella pena quasi gioiosa che prelude al pianto represso di una persona cara io mi facevo invece una doccia un giorno sì un giorno no di nascosto e senza rubare niente a nessuno visto che usavo solo acqua fredda gelata e mi asciugavo col mio panno in dotazione provavo dei brividi mentre la pelle mi diventava talvolta paonazza all'inizio per scoppiare in men che non si dica nel rosa glorioso di una salute pressoché di ferro capivo la morte e i numeri sottrarre una madre senza mai avere contemplato il calcolo di includerla da qualche parte sottrarre una nonna trovata morta chissà come in una pensione del porto agitare la manina dietro invito del prete calvo verso quel mio padre sulla tolda che si asciugava una lacrima forse perché l'avevo costretto a raparsi a zero per via dei pidocchi come me o niente ingaggio mi sentivo in pari col mondo sia alla preghiera del mattino che a quella del vespero e le persone che mi erano toccate in sorte da vicino erano tutte o svanite o lontane chi c'era era allo stesso tempo chi non c'era più e o era altrove bisognava imparare a calcolare l'apporto improvviso dato anche per sottrazione che compare a ogni scomparsa o inattesa apparizione sapevo per istinto che per durare col mio respiro anche domani dovevo ragionare per schemi e tuttavia prevedere i giochetti del tempo che rendono risibili un solo attimo dopo tutte le tabelline per così dire dell'attimo prima mai contare sulle persone che ci sono perché all'improvviso non ci sono più e non tanto perché sono morte ma perché possono prendere il largo qualcuno avvisandoti altri senza nemmeno questo il mio maestro è rimasto stupito perché a sette anni scarsi e senza che me lo avesse insegnato nessuno sapevo contare fino a mille e riuscivo a fare a mente sottrazioni moltiplicazioni e divisioni e a enunciare il risultato come un grande anzi meglio di un grande perché i grandi possono sbagliare io mai aì aì aì